Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura di Vito Gardiol, pastore alla chiesa di Prali. Cari fratelli, care sorelle in ascolto, il Signore ci ha convocati insieme nella gioia come chiesa raccolta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dice il salmista, mandate grida di gioia al Signore abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiose a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e greggio di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno e la Sua fedeltà per ogni generazione. Preghiamo. Signore, da sempre e per sempre, Tu solo sei Dio, Tu hai creato ognuno e ognuna di noi, in Te è nata la Tua Chiesa. Dall'alto della Tua eternità tieni nelle mani tutti i secoli e tutte le terre e stendi su di essi la Tua fedeltà. In Cristo avvolgi nel Tuo sguardo di compassione le creature che la storia sovente dimentica. Il Tuo spirito coglie il sospiro leggero di ogni cuore, dettato dalle situazioni liete o tristi o gravi dell'esistenza. E allora ti chiediamo, dissipa in questo momento di ascolto della Tua parola, di lode, dissipa il velo che ci impedisce di leggere nella storia il Tuo regno che viene e ridestaci al coraggio della fede e alla gioia della fedeltà. Nel nome di Gesù. Amen. Siamo figli di un solo riscatto, d'amore un medesimo fatto, di fede, di sperme, di piccola insieme, col nostro possente Signore. Fratello solleva il fratello, oppresso da grave il fratello, risulta sei gode e cantane l'ode al profito nostro Signore. Cari fratelli e care sorelle, il testo che viene proposto per questa domenica è il testo di Esodo 20, da 1 a 17. Leggerò soltanto i primi due versetti. Allora Dio pronunzeo tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dèi oltre a me. Care sorelle e cari fratelli, i Dieci Comandamenti, il Decalogo, chi non lo conosce? Questa è probabilmente la parte della Bibbia più nota e più citata, anche se non necessariamente la più osservata. Legge universale per molti, ma di fatto grande sconosciuto. Anche chi non si definisce credente sovente finisce per citare i Dieci Comandamenti. La maggioranza probabilmente non riesce neanche a metterli insieme tutti o ricordarne l'ordine. Comunque ne riconosce l'autorità. Riconosce ai Dieci Comandamenti un valore etico fondamentale. E li sentiamo citati nelle situazioni più improbabili, da credenti e non. Hanno avuto un'importanza capitale in tutta la storia della Chiesa, anche nella Riforma. Lutero stesso, per esempio, comincia il suo Catechismo con i Dieci Comandamenti, cioè con quella che lui considera la presentazione della volontà di Dio. Ma anche al di fuori della Chiesa. Le opere di artisti, ben lontani dalla vita della Chiesa istituzionale, per esempio, se non addirittura atei, citano o raccontano il Decalogo. E ci parlano proprio di come il Decalogo sia parte dell'immaginario collettivo, ben al di là di un discorso di fede e di come possieda invece un valore etico assoluto, un potere di suggestione che va ben al di là delle regole che presenta. Il Decalogo appare nella vita della Chiesa, della cultura, dell'arte, della stessa giurisprudenza e anche della politica. Anche se poi spesso sono citati a caso, spesso anche storpiandoli. Nella cultura cattolica si sono affermati una forma abbreviata che non rispetta affatto il testo originale, che piuttosto è spesso funzionale a una morale precostituita ben precisa. Un esempio per tutti, il famoso comandamento non commettere atti impuri. Quanta della morale sessuale è stata costruita su questo comandamento che non esiste, ma che ha preso per molti il posto di non commettere adulterio. Ma atti impuri ben sappiamo che tipo di moralismo ha favorito. Comandamenti dunque da tutti e da tutte citati eppure così poco conosciuti, ma in essi si cela effettivamente un tesoro di elementi della fede e vale la pena certamente ogni tanto dedicargli un tempo congruo per studiarli e riceverli per quello che sono, e cioè il grande simbolo del patto di libertà che Dio ha stabilito con il suo popolo. Questa introduzione che abbiamo letta è un elemento fondamentale del decalogo, che troppo spesso viene ignorata e sottovalutata. Parte del problema sta proprio nella suddivisione del decalogo, che forse non tutti sanno, non è la stessa in tutte le tradizioni. Nel testo, anche se troviamo il riferimento a una raccolta di dieci comandamenti, non è soddiviso esattamente in dieci parti e alcune di queste vanno accorpate le une alle altre e le diverse tradizioni hanno fatto accorpamenti diversi, più o meno discutibili. La tradizione protestante segue in massima parte quella ebraica, tanto che in una discussione con un cattolico sui dieci comandamenti è sempre bene intendersi di quale comandamento si stia parlando, perché il numero non è sufficiente. Questa suddivisione rende quindi anche artificiale la divisione che talvolta si sente fare di comandamenti della prima o della seconda tavola, espressione con la quale normalmente si indicano i comandamenti che riguardano il comportamento nei confronti di Dio e quelli nei confronti del prossimo. La differenza che però esiste con la tradizione ebraica riguarda proprio la primissima parte. Io sono il Signore e il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, nella tradizione ebraica è parte inscindibile del primo comandamento, non avere altri dei all'infuori di me. E noi lo definiamo una introduzione generale a tutto il decalogo. Questa seconda scelta finisce per favorire il rischio di trascurare questa frase fondamentale, perché sovente introduzione per molti significa la parte che in qualche modo si può saltare. Ecco, allora mi fa piacere citare l'inno 207 che enuncia tutti i comandamenti e che pur riassumendo in ogni strofa due o tre comandamenti utilizza invece tutta la prima strofa per enunciare questa importante introduzione. Perché se invece intendiamo l'introduzione come la spiegazione e la chiave di lettura dell'intero testo, allora riconosciamo anche quale importanza essa ha nella comprensione del decalogo. Purtroppo anche nella stessa tradizione protestante sovente si è persa la comprensione della grazia e dell'amore di Dio e dell'obbedienza che nasce dalla fede. Quella dimensione fondamentale che i riformatori avevano riscoperto e sottolineato rimane sovente pura teoria anche in molte realtà evangeliche. La comprensione di Dio della sua legge e della sua grazia è spesso letta nei termini che un teologo francese ben riassumeva nell'immagine del padrone capriccioso. Dio, quando non viene visto come il misericordioso che tutto permette e non sa bene cosa vuole, è percepito come un padrone capriccioso e geloso dei suoi diritti e privilegi, dai mille divieti e dalle mille regole così difficili da conoscere e da comprendere. E i ministri della parola non sono più a quel punto coloro che annunciano la buona novella, ma dei gendarmi, dei guardiacaccia di questo territorio sorvegliato su cui ci si può muovere solo se si ha l'autorizzazione e se si rispettano le regole ferree che vigono. E la grazia a questo punto non diviene altro che un permesso di caccia, un'autorizzazione a trasgredire le regole altrimenti ferree. Ecco come la Chiesa cristiana finisce ogni volta per rimettersi nuovamente sotto il gioco della legge da cui Paolo ci metteva in avviso a perdere il senso, cioè della libertà a cui siamo chiamati e chiamate. Non la legge in quanto tale è la nostra schiavitù, ma la comprensione legalistica dei comandamenti che li trasforma in sbarre di una gabbia che impediscono qualunque libertà. Non dimentichiamo poi che Gesù stesso non ha abolito la legge, anzi dice poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei non entrerete affatto nel regno dei cieli. La liberazione è la realtà perpetua di Dio che chiama coloro che libera, che non impone leggi che soddisfano la sua smania di potere, ma offre a coloro che ha liberato gli strumenti per restare liberi. Ecco chi dona i comandamenti e in quale prospettiva, il liberatore del suo popolo che per esso vuole il bene supremo. Il suo popolo, noi tutti invece continuiamo a pensare che possa essere possibile vivere cercando un bene diverso dalla salvezza che Dio desidera per noi, che sia possibile vivere ed essere felici in una dimensione diversa da quella della sua volontà, una volontà che è quella di farci essere ciò che in Lui abbiamo la possibilità di essere, e cioè creature rinnovate. Il vincolo, il patto che Dio stabilisce con il suo popolo è quello con il quale Dio vuole preservare il suo popolo da ricadere nuovamente nella schiavitù, e cioè questa legge di libertà che noi tutti e tutte siamo chiamati a riconoscere e a vivere nella nostra esistenza. Amen A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, ti vogliamo pregare per tutte le persone che oggi non possono vivere, partecipare a un culto comunitario. Pensiamo alle persone malate, agli anziani. Ti chiediamo, sii particolarmente vicino a queste sorelle, a questi fratelli. Noi ci impegniamo perché sentano la presenza della comunità. Pensiamo anche a quelle persone e a quelle intere comunità cristiane a cui viene oggi ancora impedito di raccogliersi per ascoltare la tua parola e per lodarti. Sappiamo che si incontrano in segreto anche talvolta a costo della vita. Signore, fa sentire a queste chiese sorelle la tua presenza in modo che si sentano sempre parte della chiesa universale e dà a noi la capacità di essere solidali con loro. In ultimo, ti preghiamo per chi non osa decidersi a confessare la propria fede in te, per chi pensa a te ogni giorno ma non sente il bisogno di una comunità, per chi è membro di chiesa ma se ne sta ai margini. Signore, sii con loro e sii con noi quando incontriamo questi fratelli e queste sorelle. Ci vogliamo impegnare a parlare con loro di te, della loro e della nostra ricerca e a fare in modo che la comunità diventi uno spazio nella quale la loro ricerca possa svolgersi in modo efficace. Te lo diciamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo. Amen. E vogliamo ricevere la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto su di voi e vi dia la sua pace. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese a cura del pastore Vito Gardiol. Il Signore d'Operi